La Perla Ionica, ristorante e pizzeria a bofa marina. Sale e aree all'aperto per compleanni e cerimonie di ogni tipo. Menù ricchi e convenienti per le tue serate in compagnia. Menù patatine, bibita e pizza scelta. Menù completi con fritture di gamberi o costolette d'agnello o ancora pesce stocco alla bovese, più insalata e bibita. Ogni menù ha soli 10 euro e non si paga il coperto. Pizza e cucina senza glutine. Gusto, qualità, convenienza e cortesia. La Perla Ionica, ristorante e pizzeria e anche villaggio turistico sul mare. Località San Pasquale, bova marina. Telefono 338 43 07 698.